Benvenuto nella mia accademia di pasticceria! Se sei arrivato fino a qui è perché sei interessato alla pasticceria, ma nello specifico ai bilanciamenti di pasticceria. Infatti ho realizzato il nuovo videocorso formativo sui bilanciamenti di pasticceria. In questo corso vedremo tutte le migliori basi di pasticceria, ma soprattutto i ragionamenti che ci sono alla base. Perché la pasticceria non è un insieme di ricette, ma è un insieme di ragionamenti. E in questo corso ti insegnerò a ragionare come un pasticcere professionista. All'interno di questo corso vedremo tantissime lezioni teoriche, tantissime lezioni pratiche. Nelle lezioni teoriche vedremo tanta calcolatrice e tanta lavagna per capire e bilanciare le ricette, per poter creare le ricette come le vuoi tu. E vedremo le video lezioni pratiche per mettere in pratica quello che abbiamo fatto alla lavagna. Ad ogni modo in questo percorso vedremo la pasta frolla, quindi le paste friabili, sia le funzioni degli ingredienti nello specifico che il suo bilanciamento. La pasta sfoglia, la pasta bignè, le masse montate, quindi i pan di spagna, i biscui, le docquase, i meringaggi, le meringhe. Vedremo piccoli lievitati, pratica e teoria, grandi lievitati, bilanciamento e pratica, la gestione del lievito madre, il temperaggio del cioccolato, i semifreddi, le differenze tra i semifreddi, il biscui glacé, il parfait, il semifreddo all'italiana, i cake, quindi bilanciamento sui cake, come realizzare un cake. Insomma, tutte le più importanti basi di pasticceria spiegate a regola d'arte per farti ragionare come un pasticcere professionista, affinché tu possa diventare un creatore delle tue ricette. Ad ogni modo, qui sotto c'è un tasto per iscriverti subito, sappi che all'interno dei corsi hai la mia assistenza, infatti sotto ogni video lezione puoi scrivere un commento, per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità, avrai la mia assistenza. Sotto c'è il tasto per parlare con un operatore, se vuoi altre informazioni o vuoi capire quali sono i percorsi più adatti a te, qui sotto c'è il tasto per parlare direttamente con la mia assistenza. Quindi che dire, io ti saluto, spero di vederti all'interno del corso e ci vediamo dentro. Ciao!